Dopo la rapina mi è esplosa una rabbia decisamente importante, quindi ho pensato che era il caso di fare qualcosa per riuscire ad ovviare ad un'eventuale aggressione. Dopo essersi trovata faccia a faccia con i due banditi armati, ad aver provato la paura, una paura che tornava ogni volta che faceva un pezzo di strada da sola di sera o quando doveva chiudere la farmacia di Marsango, Barbara ha capito che doveva fare qualcosa, non poteva darla vinta a quei tre malviventi e così ha deciso di iscriversi ad un corso di autodifesa e di praticare la box. Mi ha dato una grande sicurezza in me stessa, mi ha insegnato a gestire la mia paura e mi ricordo che le prime lezioni quando c'erano le prese o comunque dei contatti fisici avevo le lacrime agli occhi, mi bloccavo e piangevo, adesso non succede più. Durante la rapina Barbara reagì con rabbia e inveendo contro i banditi che stavano minacciando con la pistola lei e la sua collega, fortunatamente non è rimasta ferita ma le ripercussioni sono state per qualche tempo a livello psicologico. Ho avuto un paio di giorni in cui di notte facevo fatica a dormire, ad addormentarmi perché avevo le scene davanti agli occhi. Barbara da sempre molto sportiva, così deciso di fare qualcosa ci tiene al suo lavoro e non vuole che la sua attività di farmacista possa risentire della paura di subire rapine o aggressioni, da qui la scelta della box è di fare un corso di difesa personale. Mi insegna una cosa importantissima secondo me che è il controllo della situazione, non farsi pendere dal panico, non bloccarsi, sapere cosa si può aspettare dall'aggressore e sapere cosa si può fare in qualsiasi momento, anche solo riuscire a divincolarsi e scappare è fondamentale, non necessariamente picchiare. Di fronte ad un'altra rapina, lei come si comporterebbe? Vai a saperlo, io sono già quella volta, non mi sono comportata proprio bene se devo dire perché sono stata presa da una grande rabbia, erano verbalmente aggressivi, erano molto su di giri, io mi sono arrabbiata e ho risposto in maniera anche un po' provocatoria, non è la maniera corretta. Probabilmente riuscire a gestire meglio la mia emotività, questo non vuol dire che se non dovesse capitarmi l'occasione non proverei a reagire.